il nostro album sta prendendo sempre più figurine stiamo comprando e stiamo mettendo sempre di più è bellissimo mi è venuta in mente un'idea con le figurine che abbiamo non tantissime possiamo costruire una squadra tipo fantacalcio eccola qua con i giocatori a disposizione secondo noi questa è la migliore in porta Andanovic dell'Inter un quartetto di difensori con Gossens dell'Atalanta Chiellini e Bonucci della Juventus a Debor dell'Atalanta un 3 a centrocampo con Rabiot della Juventus Damsgaard e Salemeger del Milan trequartista maggiore e le punte Pavoletti e Kalinic cosa ne pensate? questa al momento secondo noi è la squadra migliore del nostro album Adrenalin anche buona per il fantacalcio con le figurine fino ad ora a disposizione al prossimo video con altre figurine di questo bel album Adrenalin 2021-2022 della Panini arrivederci